Musica Musica Un timidi fuciliere di marina ed incursori di nave della Penne e nave Fasanne della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Sicuro ha effettuato attività ispettiva su un peschereccio con traino una seconda imbarcazione precedentemente impiegata in attività di traffico di esseri umani L'operazione è avvenuta a circa 90 miglia nord-ovest di Derna in Libia Le 17 persone fermate ieri da nave della Penne e da nave Fasanne della Marina Militare nell'operazione di Polizia d'Alto Mare sono state sbarcate ad Augusta nella tarda mattinata di oggi e sono state affidate all'autorità giudiziaria Le operazioni, come si vede nel video che ci ha fornito la Marina Militare sono iniziate nella notte di martedì scorso quando le imbarcazioni sospette, prive di bandiera sono state identificate da nave della Penne Sull'importanza di questa operazione interviene anche il capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio di Squadra, Giuseppe Di Giorgi Si, si tratta di un'operazione molto importante perché costituisce un deterrente ulteriore contro gli scafisti Le nostre navi hanno eseguito una sorveglianza occulta cioè senza farsi vedere sono state dietro a lungo per capire bene i movimenti di queste imbarcazioni quando hanno avuto la ragionevole certezza che si trattava appunto di scafisti si sono avvicinati rapidamente e li hanno catturati tutto questo in coordinamento in tempo reale con la procura di Siracusa La grave situazione in cui versa il nostro Comune si legge nel comunicato stampa della rappresentanza sindacale unitaria è a conoscenza di tutti noi Purtroppo, nonostante le ripetute sollecitazioni della parte sindacale e della rappresentanza sindacale unitaria ad oggi nonostante le promesse fatte dalla parte pubblica siamo fermi al 21 settembre scorso ultima delegazione trattante richiesta da noi in cui, dalla parte pubblica, abbiamo avuto assicurazioni che entro sette giorni lavorativi avremmo avuto atti e risposte concrete alle nostre richieste che da mesi oramai attendiamo Ciò, continuo il comunicato della RSU aumenta ancora lo stupore e incredulità da parte nostra a fronte di una situazione drammatica e di incertezza assoluta sul nostro futuro Viviamo in un clima quasi surreale di calma e serenità apparente come se tutto filasse per il verso giusto La scelta di non decidere sino ad oggi da parte della Giunta continua la nota sindacale non fa che spostare il peso del dissesto in avanti Ancora una volta sentiamo forte la necessità di ribadire le nostre richieste per il bene del nostro Comune e di tutti noi lavoratori chiediamo quindi approvazione del bilancio riequilibrato anni 2014-2015 subito nell'interesse di tutti i cittadini e nostro anche per evitare l'inosservanza degli obblighi relative all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata che è il primo passo per la nomina di un commissario ad acta per la redazione del bilancio sostituendosi alla Giunta come prevede la norma in caso di dissesto stabilire i servizi prioritari dell'ente e quelli non indispensabili conseguente riorganizzazione del personale e degli uffici pertanto conclude il comunicato stampa della RSU del Comune di Lentini chiediamo al Sindaco e alla Giunta risposte certe in tempi brevi 21 fasce tricolore per il porto di Augusta si intitola così la grande manifestazione unitaria che si terrà domani alle 10 in piazza Duomo ad Augusta un importante appuntamento organizzato durante la riunione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Priolo in quell'occasione infatti si decise di rilasciare la forte presenza di tutte le comunità locali del Siracusano per ribadire l'importanza come volano di sviluppo del porto commerciale Megarese oltre ai 21 sindaci dei comuni e dai relativi consigli comunali dell'ex provincia di Siracusa dai quali prende il nome la manifestazione sono stati invitati alla mobilitazione i deputati regionali e nazionali dell'Internad i vertici di Confindustria e delle altre organizzazioni datoriali saranno ovviamente presenti in massa anche i sindacati sia i confederali che le singe autonome con le organizzazioni di categoria dei portuali il porto commerciale di Augusta secondo stime della stessa Port Authority è l'ente pubblico dell'ex provincia di Siracusa che gira il maggior volume ad affari e che offre le maggiori opportunità di crescita alle imprese del suo territorio di influenza spostarne la gestione a Catania o Messina farebbe fare un pesante passo indietro sul piano dello sviluppo all'intera area Siracusa-Ragusa sul problema dell'allagamento delle palazzine popolari di Priolo che ancora si deve risolvere ma per il quale si sta interloquendo costantemente con l'IACP per definire la soluzione fa alcune precisazioni il sindaco Antonello Rizza con un intervento in cui ricostruisce la storia dei lavori svolti e l'attività portata avanti dalla sua amministrazione per metterle in sicurezza adesso con questa ulteriore presa di posizione Rizza intende porre al riparo l'opinione pubblica dalle bleffe delle opposizioni che vorrebbero attribuirsi il merito di interventi fatti invece dall'amministrazione comunale attrazione Grazie a tutti.